buongiorno da obiettivo news oggi 22 febbraio si celebra la cattedra di san pietro oggi anche il world thinking day giornata del pensiero ossia un giorno per riflettere e condividere pensieri e idee spesso celebrato nel mondo dello scautismo e del guidismo in onore dei fondatori e il giorno degli sconnessi dei un giorno intero senza internet staccandosi da dispositivi elettronici per riconnettersi con il mondo reale e ripensare a un uso più consapevole della tecnologia inoltre oggi la giornata nazionale della ribollita e la giornata internazionale del margarita trenati in questo giorno nominiamo renato dolbecco 1914 frederick chopin 1810 arthur schopenhauer 1788 e drew barrymore 1975 tra i scomparsi ricordiamo amerigo vesbucci 1512 andy warhol 1987 americano 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 americano